Benvenuti al nostro canale. Oggi abbiamo una notizia emozionante da condividere su Kourtney Kardashian e Travis Barker. La coppia ha appena dato il benvenuto al loro quarto figlio. E c'è una storia affascinante dietro questa gioiosa occasione. Continuate a guardare per saperne di più. Kourtney Kardashian, 44 anni, e Travis Barker hanno finalmente realizzato il loro sogno di diventare genitori insieme dopo due anni di tentativi. Kourtney ha sperimentato la fecondazione in vitro. Ma alla fine ha concepito naturalmente. Definendo questo evento come parte del disegno di Dio. Travis ha rivelato il nome del nuovo arrivato. Rocky 13 Barker. È stata una lunga attesa. E persino la sorella di Kourtney, Kylie Jenner, è stata al suo fianco in ospedale. Questo è il quarto figlio per Kourtney. Che ha già tre figli con il suo ex marito. Scott Disick. Nel frattempo, Travis ha due figli dalla sua precedente relazione con Shanna Moakler. La storia d'amore tra Kourtney e Travis è un capitolo affascinante. Da quando si sono conosciuti fino al loro matrimonio a Santa Barbara nel maggio 2022. Rimani sintonizzato per ulteriori dettagli. Questa è stata una notizia emozionante e siamo felici di condividerla con voi. Se volete rimanere aggiornati su altre notizie e storie interessanti, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e e attivare le notifiche. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.